Di professione fisioterapista, per passione artista, con un'attenzione quasi maniacale al tema dell'acqua che si fa colore e sulla tela crea immagini poetiche ricche di sfumature e di segreti noti solo a chi le sa trattare e riconoscere. È Liviana Gregorelli che ha curato la sua passione innata sbocciata grazie alla scuola di Emilio del Prato. Ed ora, grazie ad un gruppo di amici, espone finalmente nella sua prima mostra nello spazio Torcol Art nel Centro Storico di Pisogne. L'idea di dipingere è venuta da sola, non c'è stato qualche cosa che ha spinto particolarmente. Forse da ragazzina, non lo so, magari già mi piaceva, però non lo sapevo, finché a causa di un problema familiare abbastanza importante ho cercato qualcosa di particolare da fare e sono finita da Del Prato, che era un pittore, e con lui ho cominciato a dipingere. E poi via via, in alternanza, momenti sì, momenti no, ho cominciato a dipingere e mi è piaciuto. Però mi piace solo usare l'acquarello, perché io e l'acqua litighiamo su chi delle due deve avere ragione e io cedo un po', l'acqua mi segue un po' e mi piace, mi piace proprio, è una cosa che mi piace tanto. L'Africa, il Giappone, l'Asia, soggetti molto particolari. Allora, i soggetti nascono ovviamente da un mio vissuto, nel senso che l'Africa l'ho vissuta io, l'Iran l'ho vissuto io, cioè ho visitato paesi diversi, di conseguenza di quei paesi portavo a casa qualcosa, fotografie, e quando ho cominciato a dipingere ho recuperato le fotografie e mi è piaciuto. Devo dire che poi l'etnico mi piace moltissimo, specialmente nell'ultimo periodo. Per cui rappresentano un po' tutto quello che ho fatto fino adesso. Questa è la prima mostra di Diviana Greguarelli. Sì, è proprio la prima, sì. È stato anche grazie a questi di Torcolart che è stato possibile. La cosa è nata proprio così, quasi per scherzo, però è la prima volta, vediamo come va, vediamo. Sono curiosa di vedere anche se alle persone piace, quello che piace anche a me. Così è un po' un gioco, un mettersi in gioco. Torcolart è più di un semplice spazio, è un'idea di appassionati artisti che trovano negli antichi fondachi pisognesi il luogo ideale dove curare e gustare le proprie opere. Liviana Greguarelli ha creato personalmente un sottofondo ideale per esporre i propri acquarelli che potranno essere visionati con tutta calma nelle fresche serate sul lago fino a domenica 17 luglio. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.